Adesso parliamo di un'altra marca, quella della City Iseo. Questi lucchetti sono una sottomarca di una marca ben più conosciuta, la Iseo. Sono lucchetti che non presentano pin antimanipolazione, sono molto economici e fanno abbastanza schifo. Oh, questo addirittura è arrugginito. Quindi, se trovate questi lucchetti, state nella larga, piuttosto legate la vostra bicicletta con dello spago. Grazie. 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 Grazie.